Wow! Spettacolo! Valsassina con tutte le robe innevate, campelli pesciola e qua i pratoni della grigna, tutti verdi, grignetta con la sua spruzzatina di neve e poi il grignone invece è bello imbiancato. Adesso la prima parte della cresta è anche sgombra, la parte alta c'è la neve, mi sa che comunque ce ne andiamo a mangiare!